Difficile pensare di guarire in sei giorni dalla batosta con Brindisi. La VL a Varese rimedia un'altra sconfitta, ma nel passivo 110-99 c'è un KO diverso da quello rimediato con i pugliesi. Pesero questa volta è calata nel match, vince la lotta ai rimbalzi, ma è molto meno precisa al tiro e arranca in difesa pagando l'assenza per infortunio di Charalampopoulos. Non bastano i 23 punti di Abdurrahman e una delle migliori gare in assoluto di Totè che mette a riferto 17 punti. Repesce aspetta ora Austin Day per sollevare il livello di qualità ed esperienza della squadra. Nel calcio invece la Vispesero rimedia l'ennesima scoppola in trasferta di una stagione dall'epilogo sempre più allarmante. Il Siena, che non vinceva dal 22 gennaio, strapazza 4-0 i pesaresi con due gol per tempo. I bomber di Santo e Paloschi nei primi 45 minuti, Colodel e Raimo nella ripresa. La visse senza fedato di Paola, Valdifiori e Pucciarelli si mostra estremamente fragile e si gode la magra consolazione di restare quart'ultima, viste le contemporanee sconfitte di tutte le rivali in lotta a salvezza. Domani martedì arriva il Montevarchi ultimo in classifica in un turno infrasettimanale di vitale importanza. Bel momento invece per il Fano, che ottiene la quinta vittoria consecutiva al Mancini, battendo in rimonta 2-1 il Matese, grazie ai gol di Allegrucci e Niang, arrivati nell'ultimo quarto d'ora. Nel calcio 5 sconfitta dolorosa per l'Ital Service, che perde 4-3 a Ciampino, con un incredibile secondo tempo dopo una prima frazione da 0-0. Nella ripresa infatti Ciampino dà un colpo di Reni che vale il 2-0. È un doppio schiaffo che risveglia l'Ital Service, che ribalta la situazione con Tony Dandel, João Miguel e Murillo Schioquette, che ribaltano le sorti sul 2-3. Dopo una fase da doppia espulsione si torna 5-5 e i capitolini inseriscono il portiere di movimento, trovando con Diaz la rete del 3-3 a 51 secondi dalla fine. Il colpo atroce arriva però 32 secondi dopo con Pigna, che ruba palle dalla propria metà campo, con un pallonetto beffardo, sigla il 4-3 definitivo. Uno stop pesante per un'Ital Service chiamata già domani a un altro match nel recupero del martedì in Campania, in casa del Real San Giuseppe. Weekend a dimenticare anche per la megabox Vallefoglia, che a Cremona perde in 3-7 lo scontro diretto con Casal Maggiore, vanificando una grossa chance di agganciare la zona play-off.